Prevenire la radicalizzazione violenta grazie ad un approccio multidisciplinare. Oggi gli estremismi sia di tipo religioso che politico sono molto attuali. Se ne è parlato in un convegno organizzato dall'Università dell'Aquila con la collaborazione della Prefettura. Tanti gli esperti che si sono confrontati nella tavola rotonda, soprattutto esponenti delle forze dell'ordine, ma anche magistrati, psicologi, esponenti del mondo del carcere e della scuola, con un focus dedicato anche ai giovani. L'Università contribuisce sulla base delle proprie competenze, quindi la formazione di un pensiero critico che abborrisca l'axenofobia, l'antidemocrazia, e questo è un primo aspetto importante, può dare la condivisione di ideali di libertà e di pace e può dare anche dei percorsi sanitari, perché in alcuni di questi casi è necessario un intervento di natura psicopatologica, se non psichiatrica. Quindi tutto questo è nelle competenze dell'Università. La formazione è importante, soprattutto parliamo di una fascia di età, quella dei minori, per cui il mondo della scuola in primis è chiamato a svolgere un ruolo importante per poter intercettare per tempo i segnali e quindi intervenire. Questa è la finalità anche di questa giornata. Molto si può fare per la prevenzione, hanno ribadito gli esperti, in una sala molto affollata che ha visto la partecipazione anche di tanti finanzieri. Cercare di formare più possibile gli operatori della società civile, in quanto il problema non è soltanto delle forze di sicurezza, sicuramente lo è, però noi vogliamo prevenirlo, quindi per prevenirlo bisogna che formiamo chi è a contatto con giovani che possono intercorrere in queste problematiche, quindi docenti, assistenti sociali, educatori, c'è chi lavora nei centri giovanili, perché sono coloro che possono in qualche modo essere delle antenne sul territorio. E poi questo fa parte naturalmente della prevenzione primaria. Chiaramente poi nel momento in cui dovessero esserci casi, avere un gruppo formato che possa, diciamo, attraverso tavoli di, noi chiamiamo tavoli multidisciplinari, multiagenzia, riuscire quindi a intercettare qual è la problematica, perché le problematiche non sono mai semplici. Grazie. 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 Grazie.